Del Legger Libri, 1920 È un'esigenza innata del nostro spirito di creare dei tipi e di suddividere l'umanità secondo quello schema. Dai caratteri di Teofrasto e dai quattro temperamenti dei nostri avi sino alla più moderna psicologia si avverte questa esigenza di ripartizione tipologica. Anche inconsapevolmente l'uomo incasella le persone del suo ambiente in tanti tipi secondo la loro somiglianza con caratteri che sono stati importanti per lui durante l'infanzia. Ma per quanto utili e illuminanti siano tali suddivisioni derivino esse da un'esperienza puramente personale o tendano invece a una tipologia scientifica e pur buona e profittevole cosa sezionare ogni tanto il regno dell'esperienza secondo un'altra direttrice e constatare che ogni uomo ha in sé dei tratti di ciascun tipo e che i vari caratteri e temperamenti si possono ritrovare come stati d'animo che si avvicendano via via anche in una singola personalità. Se ora traccerò il ritratto di tre tipi o meglio di tre gradi di lettori non intendo dire con questo che il mondo di chi legge i libri si divida per tal modo in questi tre ordini che una persona faccia parte di questa e un'altra di quella specie ciascuno di noi al contrario appartiene ora a quest'ora e a quel gruppo. Ecco, per primo, il lettore ingenuo ciascuno di noi a volte legge ingenuamente questo tipo di lettore prende un libro come il mangiatore una pietanza riceve soltanto mangia e poppa fino a saziarsi sia egli un ragazzo alle prese con un libro di indiani una cameriera con un romanzo sugli amori di una contessa o uno studente con le opere di Schopenhauer questo lettore si comporta nei confronti del libro non da persona a persona ma come il cavallo con la mangiatoia o anzi con il cocchiere il libro conduce ed egli lo segue il contenuto viene preso come un dato oggettivo e accettato come una realtà ma non solo il contenuto ci sono anche lettori molto colti anzi raffinati specie di belle lettere che appartengono indubbiamente alla categoria degli ingenui questi certo non restano attaccati al puro fatto e perciò ad esempio non valutano un romanzo secondo le morti o i matrimoni che so contiene ma ciò che prendono come un dato assolutamente oggettivo è l'autore stesso i valori estetici del libro e perciò partecipano ai sentimenti dello scrittore condividendone le oscillazioni si immedesimano puntigliosamente nella sua visione del mondo e accettano incondizionatamente le interpretazioni che egli stesso dà delle proprie finzioni letterarie ciò che per le anime semplice è il contenuto l'ambiente, la trama per questi lettori colti è l'arte, il linguaggio la formazione dell'autore la sua intellettualità cose che si prendono come dati oggettivi come ultimo e supremo valore di una creazione letteraria allo stesso modo con cui il giovane lettore di Karl May accetta le imprese di Old Sutherland come valori effettivi come pura realtà questo lettore ingenuo nel suo rapporto con la lettura non è una persona non è se stesso egli valuta gli avvenimenti di un romanzo secondo la loro tensione emotiva la loro pericolosità il loro erotismo il loro splendore o il loro squallore oppure anziché prendere in considerazione questi avvenimenti valuta lo scrittore misurando la sua creazione sul metro di un'estetica che in fondo resta pur sempre una convenzione questo lettore stima senz'altro che un libro esista unicamente per essere letto con attenta fedeltà e apprezzato nel suo contenuto o nella sua forma proprio come un pane fatto per essere mangiato e un letto per dormirci sopra ma rispetto a tutte le cose del mondo e così pure rispetto al libro si può anche assumere una posizione assolutamente diversa appena l'uomo segue la propria natura anziché la propria formazione intellettuale diventa bambino e comincia a giocare con le cose il pane si trasforma in una montagna in cui si scavano gallerie il letto diventa un antro un giardino un campo di neve qualcosa di questa infantilità di questo gusto del gioco si ritrova nel secondo tipo di lettore questi non considera né il contenuto né la forma di un libro come i suoi unici e più importanti valori e gli sa come lo sanno i bambini che ogni cosa può avere dieci o cento significati diversi può ad esempio stare a vedere come uno scrittore o un filosofo si affatichi a convincere se stesso e i suoi lettori sul proprio modo di interpretare e di valutare le cose e sorriderne e vedere nella libertà e nell'arbitrio a parenti dell'autore nient'altro che coercizione e passività questo lettore è già così avanti da sapere ciò che in genere è del tutto ignoto ai professori e ai critici letterari cioè che non esiste una libera scelta del contenuto e della forma là dove lo storico della letteratura dice Schiller scelse questo argomento nell'anno tale e decise di trattarlo in pentametri giambici questo lettore sa invece benissimo che Schiller non era libero di scegliere nell'argomento o nella metrica e il suo diletto consiste nel vedere non già la materia nelle mani del suo autore da cui si sente costretto per chi guarda da questo punto di vista i cosiddetti valori estetici perdono quasi ogni senso e anzi proprio le incertezze e gli slittamenti rispetto a questi canoni potrebbero offrire l'attrattiva e l'interesse maggiori questo lettore infatti non segue l'autore come il cavallo e il cocchiere ma come il cacciatore insegue la traccia e un improvviso spiraglio che gli si apra sull'aldilà dell'apparente libertà dell'autore sulla sua coercizione e passività può deliziarlo più di tutti gli incanti di una buona tecnica e di uno stile artisticamente elaborato un credino più in là sulla stessa via troviamo il terzo e ultimo tipo di lettore vorremmo rilevare ancora una volta che nessuno di noi fa necessariamente parte in modo stabile di uno di questi tipi che ciascuno di noi può appartenere oggi alla seconda domani alla terza dopo domani di nuovo alla prima categoria ed eccoci dunque al terzo e ultimo stadio apparentemente esso è l'esatto opposto di ciò che in genere si suol definire un buon lettore questo terzo lettore è così personale è così se stesso e si contrappone in assoluta libertà a ciò che viene leggendo non vuole né istruirsi né ricrearsi usa di un libro non altrimenti che di ogni altro oggetto di questo mondo per lui è soltanto uno stimolo un punto di partenza in fondo quel che legge non ha importanza se legge un filosofo non è già per credergli per accogliere la sua dottrina e nemmeno per osteggiarlo o criticarla se legge un poeta non è per lasciarsi interpretare il mondo da lui interpreta egli stesso se vogliamo non è che un bambino gioca con tutto e da un certo punto di vista nulla è più fecondo e produttivo che giocare con tutto se questo lettore trova in un libro una bella massima un'espressione di saggezza la formulazione di una verità per prima cosa tanto per provare le capovolge egli sa da un pezzo che di ogni verità è vero anche il contrario sa da un pezzo che ogni punto di vista ideale è un polo di cui esiste un polo opposto altrettanto valido è bambino in quanto tiene in alta considerazione il pensare per associazioni solo che conosce anche gli altri processi del pensiero e così questo lettore può o meglio ciascuno di noi può quando abbia raggiunto questo livello leggere qualunque cosa un romanzo una grammatica un orario ferroviario le prove di stampa di una tipografia quando la nostra fantasia e la nostra facoltà associativa sono giunte al culmine noi non leggiamo nemmeno più ciò che ci sta scritto davanti sulla carta ma ci lasciamo trasportare dalla corrente delle ispirazioni e delle trovate che la lettura ci suggerisce può essere il testo a suggerirle ma possono nascere anche soltanto dalle immagini grafiche un'inserzione sul giornale può diventare una rivelazione il pensiero più esitante o più costruttivo può scaturire da una parola del tutto indifferente che venga rigirata con le cui lettere si giochi come con un piccolo puzzle e in tale disposizione di spirito si può leggere la fiaba di Cappuccetto Rosso come una cosmogonia o una filosofia o come una creazione poetica di esuberante erotismo si può anche leggere su una scatola di sigari colorado maduro giocare con quelle parole con quelle lettere e le reminiscenze che esse suscitano e così compiere un viaggio interiore attraverso tutti i regni del sapere della memoria e del pensiero mi si potrebbe ora obiettare è ancora leggere questo può ancora dirsi un lettore colui che legge una pagina di Goethe incurante delle intenzioni e delle opinioni di Goethe è come se fosse un'inserzione su un giornale o una fortuita cozzaglia di lettere questa categoria di lettori da te chiamata la terza ed ultima non è in realtà la più bassa la più barbara e infantile che fine hanno fatto per un lettore simile la musica di Hölderling la passione di Lenau la volontà di Stendhal l'immensità di Shakespeare l'obiezione è giusta il lettore della terza categoria non è più un lettore chi a tale categoria appartenesse in modo stabile ben presto non leggerebbe più nulla poiché il disegno di un tappeto o la posizione delle pietre in un muro avrebbero per lui lo stesso valore della più bella pagina piena di lettere ben collocate l'unico libro adatto per lui sarebbe un foglio con le lettere dell'alfabeto così è il lettore dell'ultima categoria non è già più un lettore se ne infischia di Goethe non ha più bisogno di Shakespeare il lettore dell'ultima categoria non legge nemmeno più a che servono i libri? non ha egli forse tutto il mondo in se stesso? chi si fermasse permanentemente a questo stadio non leggerebbe più nulla ma nessuno vi si trattiene per sempre chi questo stadio però non lo conosce nemmeno è un immaturo cattivo lettore non saprebbe infatti che tutta la poesia e la filosofia del mondo si trova anche in lui stesso che anche il più grande dei poeti non ha attinto ad altra fonte che quella che ciascuno di noi ha in se stesso fermati anche una sola volta nella vita per un'ora soltanto sul terzo stadio quello del non più leggere e in seguito il ritorno è così facile sarai un lettore un ascoltatore e un interprete incomparabilmente migliore di tutto ciò che è stato scritto basta che tu abbia sostato anche una volta sola sul giardino in cui il ciottolo in mezzo alla via ha per te lo stesso valore di Goethe e di Tolstoi e vedrai che in seguito trarrai da Goethe e da Tolstoi e da tutti gli scrittori infinitamente più valore più succo e più miele più accettazione della vita e di te stesso che non abbia mai fatto per l'addietro le opere di Goethe infatti non sono Goethe e i volumi di Dostoevsky non sono Dostoevsky ma soltanto il suo tentativo il suo dubbioso e mai perfetto tentativo di chiudere in un cerchio magico il multiforme inafferrabile mondo di cui egli l'autore era il centro prova una volta sola a fermare una piccola concatenazione di idee quale può nascerti dentro durante una passeggiata o cosa apparentemente più facile un semplice sogno che tu abbia fatto la notte hai sognato che un uomo ti minacciava prima con un bastone ma che poi ti conferiva un'onoreficenza chi era quell'uomo ci pensi su e trovi in lui qualcosa del tuo amico di tuo padre ma qualcosa in lui è anche diverso è femminile quell'uomo aveva in sé non sai dir come qualcosa che ti ricorda una sorella una donna amata e il bastone con cui ti minacciava aveva una gruccia che ti richiama in mente il bastone con cui un giorno da scolaro hai fatto un'escursione ed ecco il rompere centomila ricordi e se vuoi fermare e mettere per iscritto il contenuto di quel semplice sogno anche solo stenograficamente e per sommi capi potrei aver riempito ancora prima di arrivare alla scena dell'onoreficenza uno o due o dieci volumi il sogno infatti è il foro attraverso il quale tu vedi dentro la tua anima e il contenuto della tua anima è il mondo niente di più e niente di meno del mondo il mondo intero dalla tua nascita ad oggi da Omero ad Heinrich Mann dal Giappone a Gibraltar da Sirio alla Terra da Capuccetto Rosso a Bergson è lo stesso rapporto che corre fra il tuo tentativo di trascrivere il sogno che hai fatto e il mondo che il tuo sogno contiene intercorre anche tra l'opera di un autore e ciò che gli voleva dire sono quasi cento anni ormai che studiosi e dilettanti cercano di interpretare la seconda parte del Faust di Goethe trovando le spiegazioni più belle e le più sciocche le più profonde e le più banali ma in ogni opera di poesia anche se meno evidente c'è sotto la superficie questa segreta e indefinibile molteplicità di significati questa sovradeterminazione dei simboli come dice la psicologia più recente se non hai saputo vederla neppure per una sola volta in tutta la sua infinita pienezza e insondabilità la tua visione di ogni poeta e pensatore sarà limitata e accetterai come un tutto ciò che è solo una piccola parte crederai a interpretazioni che non renderanno giustizia nemmeno alla superficie i passaggi del lettore tra l'una e l'altra delle tre categorie sono possibili è ovvio a ciascuno in ogni campo gli stessi tre stadi con mille gradi intermedi puoi assumerli di fronte all'architettura alla pittura alla zoologia alla storia in tutti i casi il terzo stadio dove tu sei più te stesso abolirà in te il lettore dissolverà la poesia l'arte la storia universale eppure se non conoscerai anche solo intuitivamente questo stadio leggerai sempre tutti i libri tutte le scienze e tutte le arti come uno scolaro legge una grammatica grazie a tutti